BMW 325T Compact E46 Ma veramente stai dicendo? E' uscito seriamente un articolo sul BMW Compact E dice che è tra le BMW più brutte Più brutte? Wow! E io che pensavo di aver fatto una roba fatta bene Ma hai fatto benissimo! E' brutta! Diventerà bella? Ma si guida da Dio! Hai fatto bene a comprarla! Ragazzi benvenuti su Officina del Pilota Io sono Manuel E oggi voglio farvi cambiare idea Su una macchina Andiamo andiamo Ci abbiamo un sacco di cose da dirvi Anche se esteticamente non sarà proprio un granché Qua sotto c'è l'M54B25 Ovvero un 6 cilindri in linea da 192 CV Scatalizzato con i collettori liberi La trazione è posteriore Quindi ovviamente ci sarà da divertirsi Ma prima iscriviti al canale Andiamo andiamo! Let's go! Un sound Così pieno Così Old school È difficile trovarlo su altri mezzi Del prezzo Che ho pagato questa Questa macchina era l'unica in Italia Almeno All'epoca Che potevo permettermi Ovviamente non stavo cercando un coupé Perché so che quelli costano troppo E quindi mi sono orientato su qualcosa Che aveva le stesse performance delle 46 coupé Ma con un compromesso Ovvero avere un pezzo di coda in meno E così mi sono messo alla ricerca E l'unica che ho trovato era questa qui Con 77.000 km originali Pensate che di 3.25 Ti ce ne sono pochissimi Anche perché BMW li fece solo per un anno L'handling Come si guida? Ragazzi Questa è una macchina che veramente Vi fa capire che cos'è il piacere di guida Non è che sta in strada bene Qualcosa di più Complice sicuramente il nuovissimo assetto Un assetto coni Con ammortizzatori coni E molle HR Che dà un piacere di guida Signori miei Pazzesco E poi la chicca Differenziale a slittamento limitato Acquistato in Serbia Da un signore che fa queste cose Che poi regà sono serio Cioè il differenziale autobloccante mi serviva Ma il budget come sempre era zero Quindi cerco su internet E trovo il numero di questo serbo fuori di testa E faccio la proposta Mandami il differenziale che ti faccio un video Sicuramente non è un differenziale autobloccante vero Però nella guida Dà un bel aiuto L'unico motore 6 cilindri Che potevate mettere Su l'E46 Compact Era appunto L'M54B25 Ovvero un 6 cilindri 24 valvole Da 2500 cm3 Che fidatevi Dà un gran gusto Ovviamente Non è tutto oro Ciò che luccica Tant'è che questa macchina Sì Stai strada bene Perché ci ho messo le mani Tecnicamente È quasi perfetta Ho messo dei cerchi Molto belli Speedline da 17 Che Sì sono fichi Ma hanno un problema Ovvero Sono troppo larghi E quando fate una curva Sentite che bel sound Spettacolare Gratta Quindi o cambiamo i cerchi O Allarghiamo la macchina Ora qui Ci sarebbero da fare Dei ragionamenti Banalmente questa può essere Una macchina usata Tutti i giorni Tranquillamente Ovvio I consumi Sono veramente alti È difficile Andarci piano Ve lo dico Perché Lo sentite no? Lo sentite no? Lo sentite come fa questo scarico? Questo motore canta È una melodia È un violino Prendete le curve Godete Dell'ottimo telaio Dell'E46 Ragazzi Io Vi volevo portare questa macchina Sul canale Perché è una macchina Estremamente sottovalutata Non c'è un video Su YouTube Di questa macchina Che la spiega Che spiega i pro E i contro Che per carità Ci sta Non è una macchina bella Non è una macchina dei sogni Però Ha un ottimo potenziale Ha delle ottime caratteristiche Per farci godere Appieno Di questo prodotto E credetemi Sono davvero soddisfatto Con voi voglio essere sincero La presi Perché Non riuscivo Sono sincero Ad arrivare al 325 330 Coupé Quindi Ripeto Ho visto questa E l'ho presa Anche perché io amo Le BMW Amo quello che Trasmettono queste macchine A chi le guida E questo per me è una cosa Veramente importante Ha uno sterzo Che volevo lasciare Per ultimo Insieme al cambio Perché sono Quelle cose Oggettive Sono Mezzi Oggettivi Che Non si possono discutere Cioè lo sterzo Dell'E46 Ma che gli volete dire? Lo sterzo diretto È un sistema di sterzo Dove viene ridotta La quantità di gioco Quindi avremo Uno sterzo Preciso E reattivo E quella bellissima sensazione Di sentire Ogni esperità Del terreno Direttamente sul volante E il cambio? Avete mai provato Un E46? Sì? No? Non l'avete fatto? Ve lo auguro raga Non ha già i controlli Vi auguro Di provare Una macchina del genere Ma va bene Anche la station wagon Lo sterzo è quello Va benissimo Sono auto stupende Nate veramente Per fare Tanti chilometri E per divertire Gli innesti sono Secchi È un cambio maschio Questo Si sente che La marcia Va Inserita per bene Ma non ne sbaglia Una Anche se esitate A lui non gli importa Io ho un cambio BMW Le marce le metto Con questo Assetto Lo sterzo Così diretto Idroguida Signori Non c'è Nulla da dire Questa macchina È Fottutamente Bella Da guidare Da guidare Va bene Va bene no Come conclusione Del video Tanto L'estetica C'è Questo video L'estetica Non l'ha cambiata Le carte in tavola L'estetica è brutta Bene Che cosa è cambiato Nulla Questo video Non voleva Essere Incentrato Sul farvi Illudere Che questa sia Una macchina Bella È bella Da guidare È fantastica Da guidare Siamo divertiti Un casino Sicuramente Da curare Tutta l'estetica Montando un kit M Deturpato A un 320 Compact Turbo diesel Di Genova Quindi Se stai guardando Questo video Grazie di avermi dato Questo kit Perché è introvabile Tecnicamente Li abbiamo fatto Un assetto Abbiamo levato Tutte le boccole Cuscinetti Quelle cose rovinate Via tutto In favore di roba Nuova E avete visto Come sta in strada Durante la guida Io mi concentro Molto su La tecnica Di guida Anche perché Non so se l'avete visto Su i B-roll Ma quanto cavolo Stavamo andando forte La macchina Si intraversa E non è che uno Può stare a spiegare Tanto i tecnicismi Nel motore Ora siamo fermi La macchina è sporca Abbiamo fatto tutto Quindi possiamo passare Più al tecnico Signori Questa è l'M54B25 2005 Iniezione diretta 6 cilindri 192 cavalli Avete sentito Come canta Avete sentito Come va Non troppo Non va come un turbo Ma chi se ne frega Questo è un motore Fantastico Diciamo che è stato Uno degli ultimi Aspirati BMW Sigla M54 Il successore Sarà l'M54 E poi l'M55 Ma quelli sono turbo Motori turbo Ovviamente Molto più performanti Di questo Come mai Questa E46 Aveva 192 Mentre la E36 Ne aveva 170 Entrambi Sapete Che erano 2005 Ma qui cosa Cambiava Beh qui Essendo uno Degli ultimi Aspirati BMW Cambiava praticamente Tutto E una serie di componenti Erano a fasatura variabile Parliamo dei Valvetronic Ok L'alzata delle valvole Era variabile In relazione ovviamente Ai giri per minuto Stessa cosa Valeva per i Vanos Qui ne abbiamo due Fasatura variabile Sia sull'aspirazione Che sullo scarico E poi Il bellissimo collettore Di aspirazione Che vedete qui Anch'esso è variabile Grazie alla valvolina Disa Molti la levano Perché Funziona più o meno Come le Swirl La macchina Risucchia Però a me Sembra che funziona bene E questo va a gestire Diciamo I flussi Nel collettore Di aspirazione Quindi tutte queste cose Che poi in realtà Sono tante Tante complicazioni Per non mettere un turbo Ci sta Rendono L'E46 Compact Una bomba No? L'avete sentito Ha un suono Sicuramente molto più Fico Rispetto ai motori turbo O forse no Spero che comunque Abbiate un attimino Cambiata idea O comunque Vi sia entrata in testa Questa macchina Sconosciuta Alla maggior parte Delle persone Ma nel cuore Sicuramente A me Ragazzi Per favore Iscrivetevi Se vi è piaciuto Attivate la campanella Ma soprattutto Sai che cosa Mi interessa Sapere I commenti Io voglio Una marea di commenti Sotto questa macchina Voglio sapere Che ne pensate Se vi è piaciuto Il video Se non vi è piaciuto Raccontatemi tutto Ditemi tutto quello Che vi pare Ci tengo Veramente Mettete mi piace Mi raccomando Ciao Beri Grazie per la visione